Un modo per fare soldi, parecchi e in poco tempo. È così che molti creatori di contenuti di OnlyFans raccontano il loro lavoro sul sito web, noto principalmente nel settore dell'intrattenimento per adulti, ma che ospita anche contenuti di altri generi, come esperti di fitness, chef e musicisti. Il modo in cui funziona è semplice. OnlyFans offre un servizio di intrattenimento tramite una quota associativa mensile. Chi posta può guadagnare dalle sottoscrizioni dei propri follower e-fans, che pagano per avere accesso ai contenuti esclusivi sulla piattaforma. Sempre più spesso si leggono storie di giovani ragazze e ragazzi che appena ventenni raccontano di aver svoltato, mollando un lavoro precario e sottopagato, per dedicarsi completamente alla creazione di contenuti. Il fenomeno OnlyFans ha avuto la sua esplosione, quindi con un aumento del 75% delle iscrizioni, nel marzo 2020. Quindi sono alcuni anni che moltissime persone si stanno avvicinando a questo portale, e soprattutto purtroppo anche i giovanissimi. Per iniziare a guadagnare con i contenuti, la politica del sito web prevede che i creator siano maggiorenni. Esistono infatti due tipi di profili. Uno è quello dell'utente semplice, cioè il profilo di chi è intenzionato solo a guardare i contenuti, senza condividere foto, video o altro che dovesse riguardare la propria vita privata. L'altro tipo di profilo è quello del creatore di contenuti. In questo caso, nei vari passaggi, al momento dell'iscrizione, vengono richiesti il paese di provenienza, le informazioni personali e la carta di identità. Ma a volte, purtroppo, anche i minorenni riescono a iscriversi, aggirando la politica di controllo del sito. Sappiamo che molti giovani, adolescenti e preadolescenti, sanno bene come aggirare anche le politiche di questo portale, fingendo appunto un'età diversa da quella che hanno. E poi all'interno di questo portale, di questa app, sono in grado di comunicare, di scambiare materiale personale, molto intimo e privato, a pagamento. La cosa inquietante e preoccupante è che spesso, in questi casi, nei più giovani, non ci si rende conto di quale sia il rischio che si sta correndo. Non si valutano bene i rischi, appunto, delle proporzioni, di quello che è il confine tra la loro vita reale e la vita intima. E quindi è anche una diffusione di materiale pornografico in un'età sicuramente troppo immatura. Ecco, soprattutto perché poi è materiale che chiaramente resta, che circola, che magari andrà a incidere anche sul futuro di questi ragazzi. E appunto, forse il danno è anche questo, non rendersi pienamente conto di quello che si sta facendo. I ragazzi, evidentemente, non si rendono conto, probabilmente a causa di due problematiche. La prima è quella che è la rincorsa ad un guadagno facile, quindi in cambio di denaro, in cambio di doni, in cambio di regali. Ma anche e soprattutto, forse, una scarsa autostima e quindi un pensare poi che questo sia un modo anche per attirare attenzioni e gratificazioni dai social e quindi dagli altri. Questi sono i due dati assolutamente da attenzionare, soprattutto da parte degli adulti. Grazie a tutti.